Musica Il professor Nocci, tra le altre cose, Prima accennava all'economia comportamentale e quindi adesso parliamo di macroeconomia. Economia comportamentale, tra le altre cose, uno dei dati rilevanti di questo aspetto dell'economia è quello che mostra come i trend siano influenzati anche da comportamenti irrazionali. Quindi in un momento così difficile, un po' per tutti con un'atmosfera così pesante che si respira, siamo un po' portati a pensare che vada tutto male, sia tutto un disastro, ma bisogna vedere se poi i numeri ci confortano o invece sono meno o peggio del previsto. Quindi Federico Della Puppa, coordinatore del centro studi, ce ne parlerà ora. Ringrazio ovviamente Roberto Dillis per l'introduzione, è stato tra l'altro molto interessante sentire alcune cose del bellissimo intervento del prorettore Giuliano Noci perché in effetti molti di questi elementi strategici che sono stati illustrati li troviamo e li vedremo dopo, soprattutto nella presentazione che farò dopo, sulla parte più strategica legata poi alla lettura dei bilanci e l'andamento della top 100. Però adesso ci occupiamo di mercato, ci occupiamo di come sta andando e cosa dobbiamo un po' aspettarci rispetto a quelle che sono le dinamiche che in questo periodo sono intervenute e hanno ovviamente cambiato in modo radicale non solo le strategie dovendo adattarle al cambiamento congiunturale, ma forse anche dando una spinta a quello che il prorettore diceva a una sorta di costruzione di una trasformazione futura della quale abbiamo assolutamente bisogno. Però prima di iniziare vi chiedo uno sforzo mnemonico, cioè fate un momento, fermatevi un secondo come diceva il professor Noci e concentriamoci un secondo su due numeri, cerchiamo di tenerli a mente, il primo numero è questo 1682, facciamo finta che sia una data, cioè cerchiamo di tenerli a mente perché li vedremo poi alla fine di questa mia presentazione però vorrei che li teneste bene a mente, 1682 e il secondo numero che vi chiedo è di ricordare questo, 2000, quindi facciamo finta che siano due anni così non è tanto difficile, no? 1682 e 2000, poi capiremo il perché, perché ci sono delle buone notizie, questo lo anticipo, faccio un po' come il tenente Colombo, vi dico già l'assassino, ci sono delle buone notizie quindi teniamo in mente quei due numeri. Come sta andando l'economia? Come è andata l'economia? Certamente potremmo da un lato dire che in questa pandemia mondiale l'economia è andata un po' male per tutti, andrà un po' male per tutti, chi più chi meno e quindi da un certo punto di vista si potrebbe anche ragionare dicendo ma tutto sommato ma il comune è mezzo gaudio, cioè andiamo male noi in Italia ma stanno andando male in Francia, vanno male in Germania sono andati peggio in Spagna, quindi voilà, non è neanche così male alla fine, è male però tutto sommato in realtà ciò che stiamo perdendo a livello globale, che perderemo con le previsioni che il Fondo Monetario ha fatto ancora quest'estate sarà complessivamente una cifra intorno ai 12 mila miliardi di dollari per quanto riguarda l'economia complessiva mondiale è una cifra che noi recupereremo dal punto di vista economico solo tra il 2021 e il 2022 quindi in realtà anche se il prossimo anno come dovrebbe essere ripartisse l'economia diciamo in una situazione di maggiore tranquillità perché sarà stato trovato il vaccino e sarà diciamo sotto controllo l'emergenza sanitaria in realtà ci metteremo un paio d'anni a ritornare al livello sul quale eravamo lanciati prima dell'inizio della pandemia ma attenzione perché dal mio punto di vista in realtà malcomune e mezzo gaudio mica tanto in realtà c'è ben poco gaudio nel crollo atteso per quanto riguarda il nostro paese non solo il nostro paese, certamente anche la Francia, certamente anche la Spagna però l'Italia è il paese che assieme alla Spagna soffre e sofferirà di più dal punto di vista economico queste erano le previsioni del Fondo Monetario Internazionale di fine estate meno 12,8% del prodotto interno lordo per il 2020 una ripresa del 6,3% che è una ripresa importante dopo guerra potremmo dire il prossimo anno però attenzione perché quel più 6,3% non compensa almeno 12,8% questo per quanto riguarda ad esempio le previsioni che in realtà l'Unione Europea aveva fatto esattamente nello stesso periodo sono anche un po' peggiori di quelle che erano le previsioni di tutta l'Unione Europea che vediamo un meno 11 e un più 6% per quanto riguarda il nostro paese ma c'è un elemento sul quale vi vorrei portare a riflettere in questa prima fase della mia presentazione il fatto che il secondo trimestre del 2020 a livello europeo ha avuto una forte flessione si è passati da una crescita che come potete vedere andava nella metà del 2017 dal 2,9% fino ad una crescita media dell'1,5% 1,7% lo scorso anno fino al crollo del primo trimestre di quest'anno meno 2,7% il secondo che è il vero crollo del lockdown generale europeo del meno 14,4% l'area euro che è l'area che si muove un po' più leggermente più lentamente nella quale noi siamo inseriti a livello europeo aveva dinamiche abbastanza simili e molto positive fino alla metà del 2018 si è poi fissata su dati che sono più o meno in linea ma di poco inferiori a quelli medi europei e poi complessivamente ha perso il primo trimestre di quest'anno il 3,2% e poi un 14,7% a livello nazionale che cosa è successo? che la nostra economia era un'economia che già era un po' lentina rispetto a quella europea quindi da noi la pandemia ha colpito in modo più rilevante perché guardate l'altezza di queste colonne qui l'altezza delle colonne se noi confrontiamo quanto sono alte le colonne europee e rispetto alle nostre colonne noi arrivavamo già da una situazione sostanzialmente di galleggiamento di 0,4, 0,1, 0,3 un'economia da prefisso telefonico no? giusto? qua siamo in Lombardia saremmo 0,2 forse o 0,3 voglio dire siamo su quella cifra lì quando ci siamo fermati noi ci siamo fermati con una velocità maggiore il primo trimestre di quest'anno abbiamo perso il 5,6% per poi scendere almeno 17,7% il Covid è arrivato in un momento di debolezza dell'economia europea molto rilevante questa era la variazione trimestrale sul trimestre precedente mentre questa era la variazione del trimestre anno su anno e vedete la dinamica che comunque era di piccola dimensione più 0,3, più 0,4, più 0,5 a livello diciamo europeo e dal nostro paese la debolezza era ben presente prima fondamentalmente avevamo questa dinamica che era una dinamica poco dinamica cioè sostanzialmente se io dovessi dire oggi sto guadagnando lo 0,2% in più dell'anno scorso non è che mi cambia la vita una dinamica statica sì che è diciamo è una sorta di foto come il photo finish cioè quelli stanno correndo però la foto in realtà ce li fa vedere tutti fermi siamo fermi se pensiamo di correre siamo un po' fermi quindi in realtà cos'è successo? che la nostra economia e guardate qui la differenza tra l'area euro valutata trimestre sul trimestre precedente procedeva con piccoli incrementi 0,4, 0,2, 0,4, 0,2 la nostra economia in realtà cosa stava facendo? ancora dall'inizio del primo trimestre del 2018 0,0, meno 0,1, più 0,2, più 0,2, più 0,1, 0 eravamo già deboli quindi la pandemia ha colpito non solo purtroppo le persone deboli ma ha colpito la nostra economia che era debole che ha perso già nel quarto trimestre del 2019 già perdeva lo 0,2% cioè ci stavamo già fermando da soli è chiaro che se una macchina a un certo punto si sta già fermando da sola e trova un muro quel muro l'afferma ben prima di una macchina che invece ha più dinamica ma anche quel muro non dico che riesca a sfondarlo però buttarne giù una parte ecco il perché l'ho spiegato il perché noi abbiamo avuto questa dinamica fortemente negativa quali sono le previsioni per il prossimo anno e soprattutto per il prosiego certamente allora le ultime previsioni visto il rimbalzo che c'era stato nella parte finale dell'estate e lasciava presagire in assenza di un lockdown possibile e forse totale non so questa mattina le dichiarazioni sentivo le dichiarazioni del premier che sostanzialmente diceva se non ci comportiamo bene dobbiamo richiudere tutto quindi insomma è colpa vostra se chiudiamo tutto giustamente va bene però da un certo punto di vista diciamo che le per esempio Prometeia in quest'ultimo periodo aveva stimato la perdita c'è un recupero rispetto a quella che era la previsione estiva del Fondo Monetario Internazionale quindi una perdita per quest'anno del meno 9,6% un recupero che rimaneva fissato sul più 6,2% e nel 2022 più 2,8% attenzione questo significa che dobbiamo aspettare tre anni per tornare al livello pre-crisi il che vuol dire che però avremo un orizzonte di tre anni di crescita dopo questo diciamo covid stop che ci è stato imposto ovviamente per motivi non economici e sanitari attenzione perché la prima crisi economica introdotta e governata da un fattore esogeno al mercato non economico non è mai successo no forse durante ma forse neanche durante i periodi di guerra epidemia forse voglio dire nei periodi del secondo conflitto mondiale probabilmente no ma in realtà se ci pensiamo durante il secondo conflitto mondiale tanto per restare nel tema di questi giorni i bar e i teatri non hanno mai chiuso non è mai stata non c'è mai stato un'azione in questo genere quindi siamo veramente in una fase straordinaria no e a noi italiani ci piace tanto la straordinarità lo dico sempre no cioè siamo poco avvezzi a lavorare sull'ordinario e ci piace lo straordinario in questo caso ci piace un po' meno però attenzione perché in realtà come potete vedere dai dati delle previsioni di premietteia l'Italia perde molto però sarà in grado anche di recuperare molto provate a guardare anche quanto potremo crescere il prossimo anno rispetto a quella che è la previsione di un paese che normalmente ha sempre 1, 2, 3 punti di crescita in più rispetto a noi che sono gli Stati Uniti d'America che ripresa sarà certamente sarà una ripresa disomogenea tra i settori ma soprattutto anche tra le aree geografiche non tutti partiranno allo stesso momento e soprattutto non tutti i settori partiranno allo stesso momento ripartiranno allo stesso momento e questo l'abbiamo già visto in questo periodo laddove ad esempio alcuni settori tra i quali il settore delle costruzioni è ripartito molto velocemente e altri settori che invece hanno avuto dei grossi freni ovviamente uno dei principali settori produttivi italiani che è l'industria del terzo millennio che è l'industria del turismo secondo tema caratteristica sarà una ripresa incompleta perché? perché in realtà il rimbalzo anche del terzo trimestre di quest'anno stiamo leggendo in questi giorni i dati che che Istat ci sta proponendo dimostra che in realtà è un rimbalzo incompleto non ci basta a recuperare tutto il perduto poi vedremo invece adesso tra poco vi mostrerò i dati sul settore delle costruzioni e vedremo che lì è leggermente diverso e poi soprattutto una ripresa che è incerta ne parlava anche il prorettore precedentemente cioè il fatto che gli effetti anche psicologici di quella che potrà essere questa seconda ondata del virus che magari colpirà in modo minore però potrebbe portare ad un ulteriore aggravamento di che cosa di quella che è stata soprattutto il blocco psicologico che c'è stato dal punto di vista del diciamo dei consumatori e di tutti noi cioè il fatto che di fronte a scelte di investimento di di spesa di vario di vario genere ci siamo fermati abbiamo scoperto stando a casa per tanti mesi che tutto sommato certe cose non erano poi così urgenti e necessarie potevamo anche rimandarle allora veniamo al settore delle costruzioni perché è chiaro che questa dinamica che è una dinamica psicologica anche sociologica sono dinamiche che hanno effetti diretti sulla capacità delle famiglie delle imprese eccetera di tornare a investire e qui sul settore delle costruzioni cosa è successo qua a livello europeo se guardiamo l'area euro noi eravamo già in una china molto lenta che si stava cercando di risalire nel momento all'inizio dell'anno guardate una dinamica di galleggiamento una perdita nell'ultimo trimestre del 2019 una buona partenza quest'anno più 6,4% il primo il primo mese dell'anno e poi cosa è successo è arrivato il lockdown l'Europa si è fermata è scesa e qua guardate i numeri attraverso i quali è fotografata la dinamica di flessione che c'è stata nel settore di costruzione a livello europeo meno 16% meno 30,9% ricordiamoci anche questo 30% perché in realtà ce lo ricordiamo al volo subito perché questa è la situazione italiana noi venivamo da una dinamica abbastanza simile un po' più variegata di quella europea un po' più alti e un po' più bassi come al solito noi siamo un po' più sulle montagne russe infatti dal punto di vista economico potremmo dire che le montagne russe oggi potremmo chiamarle le montagne italiane tra l'altro voglio dire abbiamo anche bellissime montagne che ci possono raccontare il fatto che un mese saliamo un mese perdiamo un mese saliamo un mese perdiamo siamo poco propensi a consolidare i nostri risultati ma nel momento del lockdown l'edilizia italiana che era cresciuta molto era partita la grandissima nel primo mese di quest'anno più 8,4% gennaio su gennaio dell'anno scorso ha fatto un più 0,8% a febbraio e poi cosa è successo meno 35 meno 68,9% guardate rispetto alla media europea meno 16 meno 30% noi abbiamo fatto più del doppio peggio perché? perché ovviamente abbiamo scelto una strategia di chiusura totale di blocco totale dell'attività tranne alcune attività ma abbiamo fatto una scelta fondamentalmente errata abbiamo scoperto dopo queste scelte fatte io lo devo dire lo devo sottolineare dal punto di vista dell'osservazione oggettiva una scelta errata fatta dal governo che è stata quella di ragionare per codici a teco come se l'economia fosse possibile diciamo rappresentarla e interpretarla per categorie chiuse allora cos'è successo? vi racconto una delle cose tipiche del nostro settore è successo che si è deciso di bloccare alcune categorie del settore di costruzioni non altre tipo quelle dei lavori pubblici dovevamo lavorare quelle sulle manutenzioni perché se ci rompeva la caldaia dovevamo ovviamente aggiustarla ma ad esempio la categoria del codice a teco del noleggio era una categoria di servizio non essenziale però cosa succede? che tutte le aziende le imprese che lavorano nel settore dei lavori pubblici normalmente non comprano le macchine ma le noleggiano allora i noleggiatori si sono trovati con il mercato che chiedeva le macchine anche in quei mesi per fare le strade eccetera e in realtà i noleggiatori non potevano aprire le loro aziende paradossale questo se non impariamo noi come politici diciamo prima di tutto a capire che noi siamo un mercato di filiere la nostra economia è fatta un'economia di filiere non è fatta un'economia di settori non riusciremo mai a capire esattamente quanto poi l'effetto diciamo di blocco o di attivazione di un settore è capace di diventare moltiplicatore complessivamente ma c'è una buona notizia cioè noi abbiamo perso tantissimo ci siamo fermati molto di più guardate questa è una frenata la frenata europea che è ripartita tra aprile e agosto di quest'anno da meno 30 a meno 0,9% cioè ha recuperato 30 punti nell'arco di quei mesi il nostro settore è passato da meno 68,9 a più 12,8 noi abbiamo recuperato 81 punti quindi in realtà il nostro settore delle costruzioni è stato molto reattivo ed è stato molto reattivo non grazie ad aiuti che in quel momento stavano per essere deliberati ma non erano ancora attivi è partito perché è partita di nuovo la capacità del sistema di rispondere alle esigenze rispetto alle necessità che ovviamente il mercato ha bloccato per quel periodo ma era necessità di costruzione di ristrutturazione di rigenerazione urbana e quant'altro allora questa crescita di 81 punti è una ripresa che in qualche modo ci fa ben sperare qua c'è dal gennaio 1995 ad oggi la dinamica della produzione del settore voi sapete che da molti anni diciamo siamo in una fase di galleggiamento cioè questo è un settore che cresceva è cresciuto tantissimo un momento del boom che tutti ovviamente si ricordano come il diciamo il nirvana delle costruzioni e poi le crisi varie che hanno portato a questa fase di galleggiamento degli ultimi anni nella quale poi è arrivato questo fenomeno straordinario ovviamente negativo che è stato il covid stop e lì ci siamo interrogati su quanto sarebbe durato questo covid stop se sarebbe stato un covid stop da formula 1 degli ultimi anni o da formula 1 degli anni 50 quando ci mettevano 4 minuti a cambiare le gomme della macchina invece di metterci oggi 2 secondi virgola qualcosa allora già vedete la curva la curva è molto positiva ma vi amplifico l'ultima parte questa è da gennaio 2014 ad oggi la cosa interessante è la curva rossa sono diciamo le dinamiche mensili e la curva scura in realtà rappresenta il dato destagionalizzato quindi liberato dall'effetto stagionale vedete i picchi negativi sono i mesi di agosto guardate che il mese di agosto di quest'anno se andate a vedere i picchi negativi degli anni precedenti è meno impattante degli anni precedenti agosto quest'anno si è lavorato ma soprattutto la dinamica che sta arrivando che è arrivata il dato è aggiornato l'ultimo dato è il punto più alto della curva scura è il mese di settembre vedete in realtà siamo ripartiti per ora adesso vedremo ottobre novembre cosa succederà però fissando l'ultimo pezzo del covid stop vediamo rispetto a quelli canali scenari sui quali avevamo raccontato alcune cose come scenari potenziali a luglio nel webinar che abbiamo fatto a fine luglio guardate dicevamo abbiamo quattro scenari davanti la ripresa V la ripresa AU che è una ripresa un po' più lenta la ripresa W che è una ripresa a singhiozzo e una cosa che non possiamo chiamare ripresa perché è L cioè andiamo giù e restiamo giù in realtà sembrerebbe in questo momento ed è una buona notizia che la ripresa per il settore sia una ripresa V ma guardate che l'elemento più interessante a mio avviso è che se noi mettiamo in confronto il settore delle costruzioni con gli altri settori rispetto alla fiducia delle imprese la curva blu quella più alta è il settore delle costruzioni la rossa è il settore dei servizi e quella verde è il settore del commercio guardate chi è in questo momento più fiducioso rispetto alla ripresa rispetto alle proprie potenzialità rispetto a come sta andando come si intravede il mercato le costruzioni sono fiduciose il settore in questo momento ha più fiducia perché ovviamente sono state fatte delle norme poi le vediamo ovviamente oggi vi acceno solo la questione del super bonus però sono state delle norme importanti che potranno tra l'altro essere determinanti nella costruzione poi dei successi futuri del settore non solo del settore ma anche soprattutto della rigenerazione degli edifici e della rigenerazione urbana della quale abbiamo così tanto bisogno ma abbiamo praticamente nell'arco di pochi mesi recuperato tutta la perdita di fiducia che era arrivata nella fase addirittura nel mese di aprile Istat non ha neanche fatto le classiche telefonate agli imprenditori per chiedere il clima di fiducia eccetera cioè il mese di aprile l'Italia si è bloccata anche nelle analisi statistiche dell'Istat questo non è penso mai avvenuto ma la cosa interessante è vedere che il recupero è arrivato già nella fiducia a un livello quasi medio di quello che era il periodo dell'anno scorso quando il settore tutto sommato ha avuto una buona dinamica e anche qua vediamo come la caduta dei giudizi sulle attività di costruzione dell'impresa fatta negli ultimi mesi anche in questo senso fino al dato di settembre 2020 ha ripreso la sua dinamica buone notizie arrivano sul fronte degli ordini anche qui siamo in una ripresa che diciamo è arrivata ad un livello che fa presagire che probabilmente ci situeremo nei prossimi mesi su una media che era già abbastanza positiva di recupero verso la positività la positività vuol dire laddove il sistema diciamo vede rosa in qualche modo e poi soprattutto il dato anticipatore la tendenza degli ordini o dei piani di costruzione dell'impresa nei prossimi tre mesi questo è a mio avviso il dato più interessante perché guardate il punto di caduta c'era già stato a febbraio un punto di caduta e da febbraio ovviamente ad aprile c'è stata tutta quella caduta fatta dalla freccia rossa in realtà il settore in questo senso la tendenza è molto positiva ed è più positiva addirittura di quello che si è perso rispetto per esempio ai grafici precedenti dove arriviamo quasi allora le notizie sul super bonus sono arrivate il 17 di maggio con la pubblicazione del decreto poi cos'è successo è successo sono state le discussioni fine luglio arriva diciamo la conversione in legge fine settembre arrivano prima volta nella storia di un decreto legge di una legge per il settore di costruzione in due mesi sono arrivati tutti i decreti attuativi non è mai successo allora va dato atto da un lato che il governo alcune cose le ho detto prima forse non le ha capite benissimo ma ovviamente nell'emergenza questo ci può anche stare dicevamo dei codici a teco tanto per dire una da un altro lato invece il governo ha capito che non poteva agire solo promettendo e quindi facendo la norma ma soprattutto facendo i decreti attuativi questi sono arrivati e oggi abbiamo che cosa degli elementi di positività nelle aspettative delle imprese che si trasformano in segnali positivi sull'occupazione che è l'altra cartina di tornasole sul fatto che si guarda con occhi positivi al futuro però io mi domando ma perché c'è tutta sta fiducia siamo in una fase di di lockdown siamo usciti da una fase di lockdown fase di grande perdita dell'economia fase nella quale non si sapeva quando si sarebbe ripartiti quando come perché ma perché le imprese hanno tutta questa fiducia in una fase così critica secondo me uno di questi tasselli è che è successo qualcosa dal punto di vista del mercato complessivo degli ultimi anni anche qui riprendo i dati dal primo trimestre 2014 all'ultimo trimestre del 2019 sapete cosa è successo? che i tempi medi di cantieri sicuri e certi per le imprese cioè di lavori già in essere e già diciamo programmati quindi mercato sicuro si sono allungati nel settore delle opere pubbliche noi fondamentalmente all'inizio del 2014 avevamo complessivamente tra diciamo una media in quel periodo intorno ai 12 13 mesi di lavoro assicurato quindi se arriva una crisi che dura un anno io sono un po' a rischio nell'arco di sei anni cioè dal 2014 al 2019 questa media si è alzata di 5 mesi noi oggi nel settore delle opere pubbliche cioè chi lavora nel settore delle opere pubbliche ha 18 mesi di lavoro assicurato quindi una crisi di un anno mi tocca ma mi tocca meno che ne avessi 12 stessa cosa è successo per il settore della costruzione di edifici cioè diciamo la cantieristica che ha avuto è passata come potete vedere da una media di 8 mesi a una media di 13 mesi ok e con un livello medio di incremento tra di circa 2-3 mesi e soprattutto la parte rossa cioè i lavori di costruzione specializzata del settore del recupero della rigenerazione ha avuto un incremento medio di 3 mesi di cantiere allora se prima io avevo 8 mesi di lavori assicurati oggi ne ho 11 se prima ne avevo 9 oggi ne ho 12 cosa vuol dire? vuol dire che una crisi che dura 3-4 mesi mi tocca ma non tanto questo è un elemento sul quale ragionare dal punto di vista della fiducia quali sono le previsioni per questo settore che possiamo guardare ci sono ovviamente previsioni che stanno girando di vario genere però fondamentalmente sono abbastanza in linea con quelle che sono le previsioni internazionali in questo caso vi presento quelle fornite da Global Data cioè nel 2020 il settore perderà molto meno di quanto perde dell'economia generale da un meno 11 meno 12 del PIL passeremo invece a un meno 7 per quanto riguarda questo settore meno 7,4 per il 2021 la ripresa sarà in linea con la crescita del PIL e per il 2022 si stabilizzerà su un più 1,4% certo che oggi ovviamente le sfere magiche attraverso le quali guardare e dire ma nel futuro succederà questo sono sempre più piccole e sempre più difficili da interpretare oggi ormai le previsioni cambiano da un momento per l'altro allora vado a chiudere l'intervento parlando molto velocemente ma semplicemente per ricordarci che siamo in un momento per il settore di grande fermento decreto semplificazioni misure per l'edilizia è stata modificata la 3,80 con delle modifiche sostanziali e molto positive per il settore è in arrivo è in discussione il nuovo testo unico per l'edilizia con delle importanti novità e poi il super bonus super bonus per cui abbiamo il libretto di istruzioni tra l'altro un libretto fatto da un'agenzia di scarsa importanza come l'agenzia delle entrate che ci dice fai questo secondo queste regole regole che parlano di moneta fiscale e quindi sono regole dove il punto chiave è la procedura il fatto che la procedura che è complessa ma non complicata se noi la studiamo bene e la mettiamo in fila capiamo che abbiamo bisogno di fare tante cose certificandole ma attenzione perché questo ci porta a far che cosa? a studiare come agire perché ciò che noi facciamo abbia una certificazione dal punto di vista fiscale nel momento in cui c'è questa certificazione si arriva e questa certificazione avviene attraverso i requisiti tecnici l'asseverazione eccetera si arriva all'accessione del credito che è la vera chiave di volta di questo provvedimento cioè il fatto che io possa cedere il credito fiscale ad un altro soggetto e lui a sua volta lo può cedere un altro cioè si crea un meccanismo di interscambio di crediti fiscali parziali totale eccetera è un nuovo mercato è un nuovo mondo sul quale non abbiamo mai riflettuto allora la nuova centralità della casa richiamata anche prima dal prolettore è un elemento centrale perché? perché se io devo pensare delle strategie se prima avevo un catalogo generico sull'edilizia oggi mi devo concentrare il ministero mi ha detto quali sono i prodotti che hanno caratteristiche e requisiti tecnici specifici per il super bonus faccio il catalogo per il super bonus perché quei prodotti mi garantiscono la certificazione fiscale e quindi la cessione del credito i prodotti che non hanno quelle caratteristiche no e non posso usarli per finire ancora 30 secondi abbiamo finito vi avevo chiesto di ricordarvi due cifre ve le ricordate 1682 e 2000 sapete cosa è successo nel mese di marzo quando siamo stati tutti bloccati dal covid i depositi bancari delle famiglie italiane sono cresciuti di 16,8 miliardi più 254% rispetto all'anno precedente mese su mese queste 1682 sapete che che numero è sono i miliardi di euro di risparmi delle famiglie oggi presenti sui conti correnti più 8% anno su anno 1682 miliardi equivalgono al nostro PIL il prodotto interno lordo dell'Italia quindi noi abbiamo in questo momento una frase che io uso spesso ma perché voglio un po' scatenare diciamo una reazione abbiamo messo sotto il materasso il nostro PIL di un anno e lo teniamo là in attesa di uso non si sa di che tipo di uso cioè non l'abbiamo quei soldi lì sono soldi messi sotto il materasso che potremmo utilizzare in qualche modo che modo vi ricordate l'altra cifra 2000 ecco qualcuno si sta svegliando e si sta dicendo ma sai che forse posso mettere questi soldi nei muri di casa mia per vivere meglio per avere più benessere e comfort perché durante i mesi del covid ho scoperto che ho tanti spifferi muffa che non sapevo di avere perché è stato a casa l'ho pulita in ogni centimetro quadrato allora 2000 sono attualmente già le richieste di cessione di credito per un totale di 13 milioni di euro che l'agenzia delle entrate ha comunicato ieri mattina in un webinar 2000 richieste di cessione del credito relative al super bonus allora il covid stop è un semaforo un semaforo che può dirci rosso giallo sta attento cioè stai fermo o verde muoviti il primo tema è già stato detto attenzione se non mettiamo in campo sistemi relazionali oggi non andiamo da nessuna parte secondo dobbiamo ripartire dalla domanda da quelle che sono le esigenze della domanda e qui non ripeto cose che sono già state dette tra l'altro molto meglio di me ma sulle quali però questo settore deve riflettere perché ci siamo sempre concentrati sull'offerta e molto poco sul tema della domanda ultimo ed è veramente il momento di pensare che quello è il verde dove possiamo ripartire promuovere la metamorfosi siamo arrivati al covid stop siamo arrivati al nostro box diciamo dove dobbiamo cambiarci le gomme ma ripartiamo con la stessa macchina o dobbiamo pensare che magari forse possiamo cambiare i pezzi del motore ripartiamo non magari con la formula 1 ma con la formula E cioè proviamo a pensarci nel senso il nostro motore oggi è un motore vecchio a scoppio che andava bene prima andrà bene domani o forse lo possiamo migliorare cioè possiamo modificare i nostri processi per essere più adeguati alle sfide che ci attengono ecco ci attendono questa è diciamo la chiusura del mio ragionamento e un po' i temi sui quali riflettere e sui quali magari poi possiamo discutere anche poi nel pomeriggio grazie per l'attenzione e passo ovviamente la parola grazie